L'inizio della terapia è come un gioco di scacchi nel senso che le prime mosse fanno la partita e in terapia le prime mosse nel costruire il rapporto terapeutico poi fanno il processo terapeutico, cioè quando noi andiamo a vedere gli insuccessi, da dove originano gli insuccessi terapeuti che tutti noi terapeuti abbiamo, possiamo individuare l'aspetto che ha fatto fallire nelle prime mosse, nella costruzione del rapporto terapeutico. Questo significa che i terapeuti non si devono allarmare se hanno degli insuccessi, ma anzi devono essere grati agli insuccessi perché solo con l'insuccesso si può veramente imparare a lavorare, oltre naturalmente con i propri supervisori e l'apprendimento teorico, ma l'insuccesso è la vera scuola di formazione alla psicoterapia. E che cosa sono questi nuclei intrasformabili? I nuclei intrasformabili sono esperienze che gli individui hanno avuto nella vita e che molto spesso sono esperienze traumatiche, dati un po' tutti abbiamo delle minime o grandi esperienze traumatiche che sono aspetti intrasformabili, ma quando sono importanti in terapia e quando il terapeuta individua che ci sono degli aspetti intrasformabili, rischia di fallire la terapia se pretende onnipotentemente di voler cambiare e trasformare gli aspetti intrasformabili. Ad esempio un'esperienza di abuso, un'esperienza anche, non so, se uno è stato in un terremoto oppure un abuso, è quelli che cambia, è una realtà, una realtà non è che la puoi cambiare. Ma allora per poter lavorare con gli aspetti intrasformabili è necessario non tanto lavorare per cercare di cambiarli, ma cercare di lavorare sulle risorse del soggetto, perché attraverso la mobilitazione delle risorse il nucleo intrasformabile entra, entrando in rapporto con le risorse, entra nella dinamica del cambiamento.